Due senegalesi di 20 e 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Milafiori per possesso di droga e fini di spaccio. I due in un appartamento di via Villar 19 a Torino cucinavano la cocaina per produrre crack. I condomini avevano segnalato ai carabinieri di aver sentito uno strano odore provenire dall'appartamento e un continuo via vai dei ragazzi. I carabinieri hanno individuato l'appartamento e hanno atteso che uscisse uno dei ragazzi per entrare. I militari hanno immediatamente percepito un forte odore, quasi irrespirabile, tapparelle e finestre chiuse e sul tavolo della cucina c'erano due pentole sport di cocaina e alta attrezzatura per il confezionamento. La perquisizione ha permesso di trovare 370 grammi di cocaina e manitolo per allungare la cocaina facendola diventare meno pura. in modo da creare più dosi. Il sospetto dei militari è che la coppia utilizzasse le pentole per cucinare la cocaina per produrre il crack e rivenderlo.